E' appena terminata la prima serata della Torino Fashion Week, sto a caldo, mi hanno chiesto la NET, New Events Turing, mi ha chiesto di fare un commento a caldo e io lo faccio volentieri, anche perché Sergei è un amico e quindi è giusto che io faccia qualcosa per lui. Allora, la serata è andata benissimo, ha aperto Walter Dang con il suo delpino Lorenzo, due spettacoli veramente eccezionali, non tanto per il luogo che è un luogo bellissimo, siamo nel deposito di De Valle, nel deposito di costumi di De Valle, in Riva al Po. E noi ci troviamo qui esattamente per definire che cos'è stata la prima serata della Torino Fashion Week. Meravigliosa! Ecco, detto questo abbiamo visto dei capi dell'OIED, abbiamo visto dei capi di altri stilisti, in genere, però come prima serata possiamo dire di essere contentissimi. sicuramente domani sera, sempre alle ore 21, qui da De Valle, troverete sicuramente qualcosa di meraviglioso. Ciao a tutti!